Sindaco, sono da poco in vigore i nuovi orari per quanto riguarda la movita della città di Pescara. Saranno in vigore fino al termine più o meno della stagione estiva, entriamo nel cuore del mese di agosto. Insomma, Pescara si appresta a vivere altre settimane con tanti turisti in città. Abbiamo stabilito degli orari che ci hanno permesso di mantenere tutto in equilibrio, perché io ho sentito il questore e il prefetto, mi hanno detto che quest'anno a Pescara non è successo nulla di eclatante rispetto a quei fenomeni che purtroppo negli anni passati si sono verificati e che si sono verificati quest'anno in altre città, anche limite, scontri tra ragazzi. Invece a Pescara non è successo nulla, perché evidentemente anche questi orari hanno permesso di mantenere una città tranquilla dove chi si vuole diversivere si diverte senza avere problemi, quindi una città più sicura. Gli orari che abbiamo stabilito per le due settimane che si avvicinano al ferragosto, quindi l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto, nelle zone centrali nei giorni feriari fino a luna e il venerdì e sabato fino alle due, invece in tutte le altre zone della città fino alle due tutti i giorni. E invece nel periodo ferragostano, quindi la settimana prima di ferragosto e la settimana dopo ferragosto, in tutta la città, i locali aperti fino alle due tutti i giorni. Avete trovato in un certo senso un compromesso anche con le associazioni di categoria? Ma sì, io ho sentito le associazioni di categoria che in qualche modo hanno manifestato qualche perplessità, nel senso che loro avrebbero voluto orari più estesi, però hanno capito perfettamente, perché una città più sicura, una città in cui le persone possono venire e soggiornare tranquillamente, senza nessun problema, è una città che favorisce anche il commercio, favorisce l'intrattenimento, favorisce la movida, quindi questi orari alla fine sono andati bene a tutti, anche a coloro che volevano riposare, quindi diciamo che non abbiamo accontentato qualcuno in particolare, ma credo che abbiamo accontentato tutta la città.